A due passi da piazza Guido Monaco in pieno centro ad Arezzo c'è la filiale di Banca Tema e noi adesso entriamo e vi portiamo con noi per andare a scoprire i nuovi servizi online. Banca Tema vuole rafforzare quella che è la relazione con i propri clienti e lo fa incrementando quelli che sono i servizi. Si parte dall'online in realtà per facilitare proprio il contatto diretto. Partiamo dal nuovo sito. Sì, noi ricordiamoci che c'è una banca radicata sul territorio, ben presente, dove il contatto con le persone per noi è ovviamente la fonte primaria, quello che poi è lo sviluppo di ogni BCC. In questo ambito abbiamo rafforzato comunque la parte informatica, sito internet, la parte del nostro relax banking e siamo partiti da un concetto semplice, rendere tutto molto più fruibile. Sito con quattro sezioni principali dedicate alle imprese, dedicate alle famiglie, al terzo settore e ai giovani. Quindi chi entra nel nostro sito innanzitutto si farà una domanda, chi sono? In questi macro settori entra e trova i suoi prodotti. Oppure, cosa forse anche più semplice, parte da ciò che vuole. Voglio un conto corrente, voglio un mutuo, un piccolo prestito, una carta di credito, scelgo il prodotto e dopo, in base a cosa rappresento, famiglia, giovane, terzo settore o impresa, mi scelgo il mio prodotto personalizzato ma partendo dal prodotto. Sito molto navigabile, fruibile, vi invito a visitarlo perché è un modo per entrare in contatto con Banca Tema. E per entrare in contatto con Banca Tema invece di persona, proprio dal sito oppure dalla app gestibile da mobile, si può richiedere un appuntamento. Così si evita di fare la fila, si evita di perdere tempo e c'è il contatto vis-à-vis comunque con un operatore che è sempre a disposizione, voi salvate sempre comunque questo servizio. Sì, sì, i nostri clienti comunque hanno un modo in più per entrare in contatto con la banca. Entrano sul nostro sito di Rex Banking, sull'onbanking, sia fisso che oppure sul cellulare, che ormai abbiamo sempre tutti come una parte aggiuntiva del nostro corpo. Segnano l'appuntamento, scelgono la data e l'orario preferiti e vengono in banca quindi con la possibilità di essere accolti nell'ambiente di sempre, ma avendo già fissato date e orario, trovando quindi il tempo giusto per esporre le proprie questioni, esporre i propri bisogni e trovare, credo come sempre, la risposta. Quindi un ventaglio di servizi che sono comunque mirati a far sentire il cliente a proprio agio. Sì, il nostro obiettivo è sempre quello di essere tailor-made, cioè ritagliare ad ogni cliente un abito fatto su misura perché siamo convinti che poi nelle banche fatte di persone si fa così. Non a caso abbiamo scelto di potenziare la presenza fisica, di dotarci di specialisti perché il nostro compito è stare sul territorio, ma rendere un servizio che sia veramente fatto per ogni persona che dentro questa banca trova il suo punto d'incontro sulle esigenze finanziarie e di servizio. Grazie